Per ora siamo diciannovesimi, mi state davvero dicendo che è così? Molto bene. Ma che bello siamo diciannovesimi rega! Siamo diciannovesimi. Siete penultimi. Che cosa stupenda, l'unica squadra a un punto peggio di insomma a Salernitana. Fantastico. Partita la partita. Paramo Sandro. Di prima perdita. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Alvarito! Alvarito! Esulta come Simone e Pepe. Palla in buca. Alvaro! Mamma mia e te, Hernandez, cosa vai a fare? Come si muro in te e te. Comunque Magnanti manca l'uscita. Ti dai in porteria ma manca l'uscita. Dio bollo alvarito. Con un uomo in meno, con rabbio fuori. Che fallo. Calma adesso, non è finita niente. Bravo Aleksandro, è bravo Di Bala. Ma perché voi eravate messi così? Voi eravate messi malissimo. Malissimo. Magnanti stai in porta, sai? Stai in porta come in Champions League. Stai in porta, Dio bollo. Dio bollo a Magnanti. Devi imparare a uscire, ragazzo. Comunque eravate proprio messi da cazzo. Com'è possibile? Comunque io dico sempre che Morata deve sempre giocare. Ve lo dirò sempre. Lo dicevo a Malmo. Lo dico adesso. Se togliete Morata, datelo a noi. Scavino? Scavino? Settimo minuto. Come fa con Luzesca ad essere un panchino a fianco a te contemporanea. Ma perché stream da casa mia, poi se deve entrare esce. Esatto. Io abito di fronte allo stadio, voi non lo sapete. Ho anche pagato la pizza. Beh, ti vuoi, mangiate. Con la fortuna che ti porto, lo sapevi che non dovevo pagare. Aspetta che non hai finito niente qua. Ci manca un attaccante in aria, c'è solo Morata. Bravo Magnanti, bravissimo Morata che ha fatto proprio il movimento attaccante. C'è anche perché che era solo lui. Ha anticipato il difensore all'ultimo proprio, ha fatto proprio il movimento giusto, bravissimo. Mamma mia, poi andava nell'angolino, eh. Bravissimo, un gran giocchiato di Morata. Guardate Bentancur, sembra Kanté. Di destro di bala! Questa andava fuori probabilmente. Eh, ha fatto bene a prenderla però. Anche, ripigliamo il gol anche di destro. Bravo, ma mi piace se di bala tira di destro. Cazzo, non tira mai di destro. Andava molto. Eh, andava fuori. Oh, peccato perché lì se la respinge Rabbit c'era andato giusto all'entra. Invece Shesney è riuscito a bloccare un pallone per noi. Sì, tutto rabbio. Adesso siamo in merda. Puoi riscattarti, puoi riscattarti. No, no, no. Continuare a fare quello che stai facendo da 30 minuti. Alzati pure. Alzati, eh. Alzati. Alzati che non c'è niente. Sì, dai. Gli ha preso la palla netta. No, è inciampato lui. È inciampato e ha tirato fuori il pallone Rabiot. Sì. È inciampato netta. È inciampato Rabiot su se stesso. Aia Locca, che bucata. Giorgio Chiellini. Vicini al gol, vicini al gol, ragazzi, per un momento. Ma è uscita di tanto, però, sai? Eccolo! Per fortuna, va là. Se la stoppa fa gol sempre. Secondo me ha provato a controllare. Adesso voglio vedere. Secondo me ha tirato in porta. No, ha tirato in porta. Se la stoppa fa gol sempre, però. Ma quando è che vai in pensione? Eh, st'estate ti piaceva, eh? St'estate. Dico così perché mi piace. È un stile di difensore che mi piace. Eh, non ne fanno più così. Però lo più proprio. Guarda, lui si butta clamorosamente e non c'è niente. Bravo. Speriamo. Eh, voi non state più giocando bene. Vedi? Vedi? Noi tanti errori. Vedi cosa vuol dire però Fargo? Ti lo puoi permettere dopo, eh? Dai, 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 dai. Ragazzi, crediamoci. Un gollettino. Per caso. Perché la vedo dura Fargo. Ma dai, Rabiot. Per fortuna che c'era, Rabiot. Per fortuna. E c'è il gol del mitico Rebic. Calma, ci vuole della calma con i ragazzi. Calma, Bonucci, adesso fai dei versi. Fai dei versi, adesso, Bonucci. Ah, sì. Sentivo che era un momento di merda. Santa Maria, ci sono riusciti a fare un gollettino incredibile. Sentivo che era un momento di merda. Di merda. Incredibile. Che culo che c'è, Rebic. C'è un buco di culo quest'anno incredibile. Che bel gol però. Ah, beh, inzuccata. Ma scusa, ma chi è che lo perde? Lo perde l'occa. Lo perde l'occa che lui è... In fin dei conti, il quale milanista lo perde. L'ha proprio perso. Sì. Porca di una pettana. Giusto grazie a te, Rabiot, grazie. Pensa a te, gli ha regalato un angolo. Grazie anche a te, Rabiot. Cioè, gli ha regalato proprio un angolo. Cioè... Dai, Ken, sveglia! Cazzo. Adesso lo possiamo puntare. Sposta il tiro. Ma vacca, voi ragazzi, ma stia rischiando di andare sotto. Mamma mia, col sfiorato. Tresimo. Dai, adesso un gol di testa a noi. Leonardo Volucci. Leonardo Volucci. Io questo calcio d'angolo non lo voglio vedere. Leonardo Volucci. No. 4-3-3 ti sta dicendo. Io questo non lo voglio vedere, ragazzi. Siamo andati benissimo. Fortuna che Ken, a quanto pare, sui calci d'angolo non sono il suo forte. C'è da una parte che dall'altra. È stata proprio... Sì. Qua si incontriva parata. Qua si bisogna fare gol, eh. Qui è andata benissimo, ragazzi. Ma qua bisogna segnare, oh. Aia. E noi tiriamo adesso. Cezni. Parata. Cezni. Ma ha tirato fuori da su, eh. Non ho capito, mi sembrava di essere parata, però pare di no. La presa Cezni. Questa è la gran parata. La presa Cezni. Questa è la gran parata. Così adesso lo smettete. Ma non è che può giocare solo contro di noi, eh. Cezni tanto. Non smettete di dire che è un portieraccio. Qua va salvato, eh. È arrivato il triplice fischio. Uno a uno. Che a noi va bene? Che pigro, Ken. Ken, cazzo, che pigro, Ken.